ciao amici e benvenuti in un nuovo video oggi farò il video dedicato alla tamasma card rainbow friends la tamasma card dedicata al mondo degli arcobalini sì una delle più belle secondo me ovviamente per tamagotchi smart adesso andremo a installarla e scoprirne i contenuti vedrò anch'io per la prima volta i contenuti sarà bello allora eccola qua eccola qui in tutto il suo splendore bella proprio bella super pastellosa ok quindi andiamo a installarla eccoci qua parte l'animazione dell'unicorno carino lui e adesso andiamo a scoprire i contenuti allora ovviamente andiamo nell'icona app e prima andiamo a vedere i cibi questo riso al curry tipo azzurro i ravioli arcobalenosi questa specie di torta fluffosa e anche questo cibi molto 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 carini anche per questi super cibi carini che bella la torta arcobalenosa il tè stupendi poi andiamo a vedere subitissimo gli oggetti gli accessori come oggetti abbiamo lo scivolo la nuvoletta questo cos'è adesso questo lo compro subito adesso vediamo gli accessori c'è questo fiocchetto qui adorabile ma il basco con le ali è bellissimo cioè questo è proprio bello ora peccato io abbia un personaggio orrido il più brutto anche questi sono tutti bellissimi adesso andiamo a vedere gli sfondi allora c'è questo qui questo qui col cavallino e palloncini questo qui a tema un po notte e questo qui con le nuvole mamma mia mi sa che sono bellissimi più belli sicuramente della chiavetta delle nunzie mi sa che gli metto questo adesso infatti il metto in stand by la chiavetta delle nunzie e provo a ottenere qualche personaggio con quello come appunto la chiavetta di rainbow friends dopo vi faccio vedere anche i personaggi adesso andiamo alla sala giochi la sala ma anzi time of work e scopriamo il primo mini gioco vediamo com'è ma cos'è ah devo fare una foto vediamo quando c'è l'arcobaleno quando appunto appare la freccia dobbiamo cliccare è uguale al gioco di sweet friends solo che dovete cliccare quando sta per mettere la fragola sulla torta lo stessa meccanica carino bello carinissimo super semplice dura tre volte e da 300 gocci points quindi va benissimo va benissimo facciamole o magari mettere un accessorio giusto per ho notato questa cosa che a tutti i personaggi indistintamente da quelli che ottenete praticamente avranno sempre come oggetti cibi preferiti quelli delle tamasma card no gli sta malissimo sei bruttissimo figlio mio veramente brutto vabbè no che poi si offende magari lasciam stare questo qui che voglio capire cos'è vedete tutti i giochi sono preferiti quelli delle tamasma card oh che bello ma cos'era ma che è oh che carino ma cos'era cosa ha sbloccato cos'era ragazzi illuminatemi poi nei commenti perché non ho capito assolutamente che cosa fosse comunque e adesso vi faccio vedere i personaggi che si possono ottenere personaggi ottenibili sono questi quattro sono l'unicorno praticamente dei mitz che non mi ricordo soltanto come si chiama fu a wachi lei quindi due femmine e due maschi e lui pure stava nei mix questo nei mitz nel mitz feri e questo nel mix dove c'è la destinazione rainbow hills appunto come vedete ci sono sempre i soliti cibi accessori e quelli che vi ho fatto vedere come sempre vi ricordo che ogni personaggio si ottiene tramite oggetti barra accessori barra cibi quindi appunto magari sicuramente la torta arcobalenosa si otterrà magari lui e altro insomma ormai lo sapete toccherà sperimentare l'ultima cosa che vi faccio vedere sono appunto i quadranti wow che carino c'è questo questo è un po' meno carino questo con l'unicorno e poi basta perché sono tre penso che lascio questo con l'unicorno che carino a parte che secondo me matcha moltissimo anche con il tamagotchi nisiu perché appunto è stile arcobalenoso quindi molto molto bello allora un'ultima questione bollini non vi preoccupate perché appunto disinstallando la card quella precedente dell'enisiu non mi sono scomparsi ovviamente i bollini sono rimasti qui e quando otterrò il bollino di rainbow friends si aggiungerà semplicemente perché vi ricordo che per tutte le tamasma card ci sono 24 slot liberi per appunto collezionare i vari bollini dei vari personaggi di ogni tamasma cards totale 24 quindi poi vedremo cosa succederà quando ne raggiungerò 24 vi farò sapere ovviamente quindi bene io direi che per oggi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi al gruppo di Tamagotch Italia su Facebook mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotch Italia e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao amici